Dopo anni il travaglio riaprirà domani sabato 15 giugno la piscina comunale all'aperto. La città di Teramo torna finalmente ad avere per l'estate un rifugio cittadino dal caldo o più semplicemente un luogo di svago per grandi e piccoli. Prezzi agevolati per le famiglie ad apertura a partire di tutti i giorni dalle ore 9. Una struttura totalmente rinnovata e completamente accessibile anche ai disabili. Un grande risultato raggiunto anche grazie al gestore che ha fatto uno sforzo veramente molto molto importante e ha rimesso a nuovo una piscina olimpionica che è fondamentale per la nostra città. Ricordiamo che ce ne sono solo tre in Abruzzo, due in attività. Questa servirebbe l'Alto Abruzzo e le Marche perché nelle Marche ce n'è solo una di queste dimensioni. Quindi una piscina olimpionica che può ospitare gare di livello nazionale. Si crea un indotto sulla città molto molto importante, era fondamentale riaprirla e in tempi brevissimi con un lavoro veramente veramente importante che permette a tutti di poter utilizzare questa struttura. Un aspetto molto molto importante è che sotto l'aspetto delle tariffe si è trovato un grandissimo lavoro. Parliamo delle tariffe tra le più basse in Abruzzo in assoluto, che vanno a premiare le famiglie più numerose, i gruppi sopra le otto persone. Una gestione che è disponibile anche chiaramente alle richieste delle varie società sportive che vorranno utilizzare la piscina. È un aspetto molto molto importante delle convenzioni con le associazioni di ragazzi disabili che potranno avere a disposizione delle aree riservate della piscina in determinati giorni, in determinati orari a prezzi veramente veramente molto molto bassi. Quindi acquisiamo questo luogo come uno dei luoghi più belli e più vissuti dell'estate tramana.